Signori, visto che anche il secondo villaggio ha raggiunto un numero di coppe, non dico alto, ma quantomeno decente, vediamo se in questo episodio riusciamo a raggiungere i mille pollicioni in su. Buona visione! Ehi là! Gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su... Clash of Clans, non mi ricordo più. Benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati sul villaggio notturno di Clash of Clans. È finito l'evento che abbiamo visto nei giorni precedenti e allora per quale motivo brillano ancora quei puntini in basso a sinistra? Perché ce n'è un altro, signore, la mega maratona a base del costruttore. 60 giorni? Cosa? Ebbene sì, se volete pagare, gemmare, sborsare, avete un evento a vostra disposizione da 60 giorni. Bisogna solamente vedere quante sono le gemme che chiede. Ma io direi di non perderci in chiacchiera e partire subito con l'attacco di oggi. Le novità sono costretto a farvele vedere subito, perché ragazzi, come avete visto nel video precedente, avevamo piazzato la macchina da guerra a livello 6, ed eccola qua, macchina da guerra a livello 6. Allora, sto tizio lo attacco subito in full baby draghi, proprio cattivissimo. Andiamo così con macchina da guerra, subito con l'abilità, ok. Appena targhetta la torre delle arciere, andiamo con un draghetto qui. Subito un altro draghetto qui, un draghetto sulla torre delle arciere là, un altro draghetto qui, ok. Un altro draghetto qui, uno qui, uno qui. Abilità della macchina da guerra di nuovo, vai col martellone. Andiamo con un altro draghetto lì, ok, giù la torre delle arciere. E subito pronti con un altro draghetto anche da questo lato, un altro draghetto anche da questo lato. Dai, attiviamo l'abilità ancora una volta, ok. Andiamo con un altro draghetto qua così. Ottimo, ottimo, stiamo facendo dei grossissimi danni. Nice, molto molto bene. Andiamo con un altro draghetto, dai. Continua a martellare, zio. Dai, 68, fammi il 70, fammi il 70, fammi il 70, niente. 68, e ci sta. Anche se è una stella sola c'è da dire. Vittoria è lo stesso, grandissimi. Partiamo bene, ragazzi. Abbiamo buttato via 20.000 unità di Elisir, ma solo per piazzare le streghe notturne. Al livello 11, signori. Livello 11, manca solamente un altro livello per maxarle per BH6. Aumentano le loro statistiche con 1.600.000 di oro, quindi ok. Deposito fullato e è andato via. Però anche l'oro non manca, quindi direi di fare subito un bel muretto, così andiamo a finire la strisciona sopra, ragazzi. Sbam, eccolo qua, muretto di livello 4. E adesso cominciamo quella sotto. Prima però io mi sparerei una bella torre dell'orologio. Eccola qui che arriva. Partiamo quindi con il secondo attacco subito, ragazzi. Vediamo di quanto riusciamo a superare le 3.000 coppie. Io vi ricordo che a fine episodio ci abbiamo un obiettivo da riscuotere assurdo, eh. Una roba veramente assurda. Puntualmente BH7. Chi ce la farà mai? Non lo so. Andiamo subito con la macchina a guerra. Abilità attivata proprio instant. Ok. Targhetta la torre dell'arciere. Andiamo con un altro draghetto qui, qui e qui. Uno qui, uno qui. Di nuovo un altro qua, un altro qua. Un altro da questa parte che la difesa era cominciata a targhettare. Ok, abilità della macchina a guerra un po' in ritardo, ma riparte. Dai, dai, dai. Là c'è una Tesla. No, dove vai draghetto? Draghetto dove stai andando? Vai sulla Tesla tu, signorino. Ho attivato la abilità della macchina a guerra? No. Spero di non aver fatto un fail assurdo. Ok. Dai, dai, dai. Possiamo spingere ancora un po' da questo lato. Andiamo con un altro draghetto al centro. Vediamo un pochettino che cosa riusciamo a fare. Allora, tirato giù il cannone, non il cannone, sì, un cannone, scusate, 55%, ancora un colpetto, niente, 55%. Qua è molto, molto difficile, ragazzi. E infatti, mazzatona nel collo, 53%, ma due stelle, bravo lui. Siamo sulle 3.017 coppie, ragazzi. Se failiamo adesso, rischiamo veramente di scendere di nuovo sotto. Però, chi se ne frega, noi il nostro obiettivo ormai ce l'abbiamo in ogni caso. Nel frattempo, con calma, partiamo con un altro gruppetto di muretti e sbamme con gli altri 300.000 che se ne vanno. Ok, eccoci quindi con il terzo attacco per oggi. Aia! Qua io ci andrei quasi quasi con i barbarelli, sapete, ragazzi? Dai, proviamoci cattivissimi. Macchina da guerra, abita della macchina da guerra, ok. Due bombaroli dietro la macchina da guerra. Andiamo con un po' di barbari di qua, un po' di barbari di là. E vediamo cosa riusciamo a combinare. Barbari anche dalle altre parti per dare un po' di aiuto, un po' di sostegno, ok. Andiamo di qua anche. Dai, bombarolo, abita della macchina da guerra, ok. Dai, 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 su. Facci sognare, si attiva la bomba gigante. E va bene così, e va bene così. Andiamo su quella maledettissima municipio. Dai, dai, cerchiamo di entrare e tirare giù quel town hall maledetto. Aiuto, ok, town hall tirato giù. E seconda stella fatta sto giro, ottima cosa. Andiamo con un po' di barbari di supporto a questa parte. Che secondo me si può entrare di più. 53% per il momento. 56%. Dai, il multimortaio non ci fa paura. 58%. Facciamo un 60%. Facciamo un 61%. Chi alza di più la posta in gioco? Niente. Dai, tirami giù quel deposito. Niente, signori. Ci fermiamo qua. Attenzione no. Bombarolo ancora cattivissimo, però no, lo spaccatuto c'ha troppa vita, non ce la farà mai. E Bombarolo ci lascia così. 61%, ma due stelle sto giro. Vediamo se può bastare. Assolutamente sì, signori. Altra vittoria. E ritorniamo sulle 3046 coppe. Fatti i nostri attacchi, adesso è arrivato il momento di prendere il grano, signori. Anzi, prima ancora è arrivato il momento di spendere il grano. Infatti andiamo a fare i muretti. Ne facciamo una strisciozza. Sbam con 300.000. Di nuovo un'altra strisciozza. E Sbam con 300.000. E di nuovo un'altra strisciozza con Sbam 300.000. Ce ne mancano solamente più di due. E poi abbiamo tutti i muretti di livello 4. E io sono a posto con la coscienza, signori. Per un po' i muretti non li tocco più. Adesso però teniamoci pronti, perché sta per arrivare il grano vero stavolta, signori. Obiettivi? 5000 punti esperienza e 1000 gemme. Per aver superato le 3000 coppe. Ma grazie. Ma grazie. Ma grazie, Clash of Clans. 1340 gemme. E livello 152 raggiunto. Così proprio come se nulla fosse 1000 gemme. Mamma mia che soddisfazione. Adesso abbiamo di nuovo un bel gruzzoletto. Che sinceramente voglio tenere da parte per il momento. Perché so che potrebbe servire per dual maxing. Tra non troppo tempo. Ragazzi, io ho pensato di fare una cosa del genere. Ditemi nei commenti se siete d'accordo. Quando avrò finito ancora questi due muretti. Porto ancora avanti un po' di difese. Tipo magari ancora il calorifero. Le difese aeree magari. Però quando sono messo abbastanza bene. Parto con il BH7 gente. Parto con il BH7. E facciamo l'ultimo municipio. Per adesso. Perché il BH8 lo sappiamo tutti. Che lo metteranno. Tra non molto. E con questo. Direi che siamo giunti al termine del video. Anche oggi. Come al solito. Vi lascio con la nostra consueta autro. Con il video consigliato. L'icconcina per iscrivervi al canale. Se vi piacciono i miei video. Io vi ricordo che escono tutti i giorni alle 5. E gente. Io vi saluto. E ci vediamo domani. Ciao ragazzi.